Simone ci ha promesso un monologo che fa in teatro sull'umiltà. Qualche tempo fa mi trovavo in teatro e stavo recitando per dei ragazzi delle scuole. Una mattina erano le 10 del mattino. Sembravano scatenati, erano più di mille ragazzi, sembrava la guerra del Vietnam. A un certo punto si abbassano le luci, silenzio assoluto. Ma che se ne sono andati via? Ho pensato. No, ci sono tutti. A un certo punto, mentre sto recitando sul palco, comincio a vedere delle luci che si accendono. Puff, in platea, puff, nelle prime file, puff, puff, puff. Il giorno dopo mi arriva questo messaggio. Gentile signor Cristicchi, siamo gli alunni del liceo classico. Volevamo ringraziarla per lo spettacolo che ci ha commosso e colpito tutti. Volevamo però scusarci per quelle persone che durante lo spettacolo controllavano continuamente il cellulare. Erano i nostri professori. E allora ho pensato che attenzione è una parola strana, vuol dire saper ascoltare gli altri. Ma ci vuole una grande umiltà per farlo. Bisogna spogliarsi di tutto quello che ci appesantisce. Così la parola umiltà mi piace perché profuma di terra. Viene dal latino humus, significa proprio terra fertile, è quella sostanza che rende fertile la terra e quindi se io mi sento utile, umile. Riesco ad essere come un campo arato, pronto a ricevere i semi di bellezza e di conoscenza che tutti mi possono donare. Mi piace l'umiltà della lodola, l'uccellino prediletto da San Francesco, perché si ciba delle poche briciole che trova per terra e canta col cuore pieno di gioia dall'alba al tramonto. Mi piace l'umiltà di chi vive in disparte, di chi non insegue il consenso. Li chiamo i santi silenziosi. Sono dei perfetti signor nessuno, che si occupano del loro pezzettino di mondo senza bisogno di consensi, applausi. A volte è molto meglio un anonimo per bene, che è un mediocre di successo. Mi piace l'umiltà di chi non reagisce alle offese, perché diventa così piccolo da non essere centrato da nessun colpo. L'umiltà dell'albero, che regala l'ossigeno, la legna, i frutti, l'ombra, senza chiedermi niente in cambio. E io tutto questo a volte lo do per scontato solamente perché non me lo fa pagare. E invece abbiamo visto tutti. Cos'è rimasto dell'Amazzonia? Amazon. Radio 2 Grazie. Grazie.